I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque interpreta questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità. Nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere all'investimento iniziale e assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è rappresentato da me, Giuseppe Cirico, l'account manager Italia di TICMIL, con me il nostro coach del training talent show coaching Marco D'Andrea. Tu Marco mi senti vero? Certo Giuseppe, forte e chiaro. Buonasera a tutti. Vedo che stanno ingressando tante persone. Oggi siamo più del solito. Sono contento che ci sono molte più persone delle altre volte. Immagino oggi passiamo operativi finalmente. Sì, oggi siamo operativi quindi parleremo della strategia, però prima di farlo, come sempre, perché ormai sta seguendo un po' i webinar con TICMIL, c'è la presentazione del broker, così ne approfittiamo anche, diamo il tempo agli ultimi ritardatari di assistere comunque a quella che è la fase più importante del webinar, ossia l'introduzione della strategia. Quindi, parlando di TICMIL, quali sono le caratteristiche principali? Un broker non di Lindesk, con commissione tra le più basse del settore, spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione con la FCA UK, dove i fondi sono custoditi e segregati, assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi tutti gli expert advisor e le strategie sono assolutamente benvenute. Non ci sono recuote. Grazie alla velocità ultra rapida nei nostri server, garantiamo la migliore esecuzione possibile, con la possibilità di avere anche i slippage positivi. Quindi, nella scritta qui un po' sovrapposta di PowerPoint, comunque non so se si legge, credo di no, comunque forniamo diversi strumenti di ausilio al trader, come AutoChartis, la VPS, il One Click Trading e la demo illimitata, e abbiamo un'ampia gamma di strumenti, ovviamente sul Forex, gli indici, tra cui il Futsimib, le materie prime, metalli preziosi e il Bitcoin. Non ci sono costi su prelevi e depositi. Abbiamo un ottimo programma partner di TIC1000, connessione fixapi già disponibile sulla MT4, però per chi poi vuole dei protocolli dedicati, offriamo anche questo tipo di servizio. E inoltre abbiamo un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain, grazie anche al nostro coach Marco D'Andrea, che è un ottimo commercialista. Marco, se non sbaglio, siamo anche nel mese delle dichiarazioni, quindi qualora vogliate comunque anche una sola consulenza, sappiate che comunque Marco è disponibile, e leggete l'email qui sulla slide. E poi inoltre abbiamo fatto anche un interessantissimo webinar sulla fiscalità, che mi invito a rivedere, io magari nei prossimi giorni lo condividerò anche sui miei canali social, però comunque sulla nostra playlist di YouTube di TIC1000 c'è questo interessante webinar che abbiamo fatto appunto. Ora lo postiamo in chat. Esatto, se ce l'hai sotto mano sì. Perché è molto interessante. Poi abbiamo, questa è la nostra mappa dei server, sparsi per il mondo, come dicevo, oltre 10 server, e questa è una tabella presa da MyFXbook, quindi non di TIC1000, quindi da un sito esterno, che confronta le commissioni, gli spread di TIC1000, con i maggiori competitor. Potete confrontarli voi stessi anche adesso in tempo reale, vedrete che comunque TIC1000 è sempre tra i migliori, come spread e commissioni. Potete poi provare il conto di prova da 30 dollari, non è richiesto nessun deposito, potete sempre farlo dal, scaricarlo dal nostro sito, e basta un'email e avrete, per chi non è cliente, non ha mai utilizzato questo tipo di conto, provarlo con questi 30 dollari. Poi per qualsiasi tipo di necessità, comunque assistenza, la mia email è giuseppechiocciolaticmill.co.uk. Allora Marco, io avrei finito con la presentazione del broker, nel frattempo vedo che comunque si sono entrate altre persone, ci siamo, quindi siamo nella fase operativa, entriamo nel vivo come creare una tecnica profittevole, adesso Marco ce lo spiegherà, io anche io ho carta e penna, caro Marco, perché come sai sono anche io un trader, quindi sono sempre assolutamente comunque, come dire, ansioso di conoscere nuove tecniche, perché non si smette mai comunque di imparare nel training, e quindi spiegaci un po' che cosa faremo durante questi incontri, che ricordo, questo è il primo oggi martedì, e proprio per avere comunque una fase di continuità nei webinar, giovedì ne faremo un altro, quindi questo giovedì parleremo sempre ovviamente della stessa strategia, e entreremo poi proprio anche ancora più nel vivo della strategia. Lascio la parola a te Marco. Grazie Giuseppe, intanto buonasera a tutti, mi confermi che in chat è arrivato il link del YouTube, per quanto riguarda il webinar sulla fiscalità? Sì, sì, è arrivato. Ok, perché io non ho la chat degli altri, quindi non riesco a vedere le domande, ovviamente me le giro. Ok, allora le giro io nel caso ci fossero delle domande, che comunque consiglio di farle verso la fine, oppure se sono proprio pertinenti a quello che sta spiegando Marco, ci fermiamo un attimo e spieghiamo. Ok, poi oltre a carta e penna vi consiglio anche di prendere un paio di indicatori che saranno un super trend che non fa repaint e un half trend che ovviamente non fa di repaint. Ovviamente per il discorso del repaint significa che al momento in cui vengono aggiornate le candele sul grafico in tempo reale, l'indicatore mantiene stabile quello che fondamentalmente vedete. Ovviamente parliamo appunto velocemente del super trend, che è un indicatore che è, diciamo, se Giuseppe vuoi mostrare nel frattempo la piattaforma, lo descriviamo per chi non lo conosce magari in generale, il super trend altro non è che appunto uno strumento che a livello matematico è composto dal moltiplicatore di una media mobile per un multiplo dell'ATR e come potete vedere, diciamo, si creano due bande, una superiore e una inferiore. Quando il prezzo incrocia la banda superiore, il trend, diciamo, si filtra sul rialzo. Quando il prezzo, diciamo, incrocia il ribasso, la banda inferiore, ovvero quella verde del super trend, vuol dire che il trend si sta diventando ribassista. Ovviamente è un indicatore che va di analisi tecnica, è un indicatore che va in ritardo, perché appunto viene calcolato su una media, quindi già il fatto che si calcola la media si calcola sulle candele passate e non su quelle presenti. E ovviamente cosa significa fare ripaint? Significa che sia nel momento in cui adesso su questa candela lo vediamo rosso, se la candela successiva dovesse, diciamo, modificare appunto il prezzo in maniera anche piuttosto violenta, dobbiamo continuare a vedere rosso questo super trend. Se il super trend su questa candela alla prossima lo fa diventare verde, vuol dire che non è un super trend di qualità, perché fa ripaint sulle candele. Quindi che cosa vuol dire? Che tutto quello che osserviamo deve rimanere statico. Al fine di evitare questo, io vi consiglio, ne ho programmati un paio, sia il super trend che l'alf trend, con il mio market e tutto quanto, e sono a codice aperto. Quindi non do assolutamente, non ho segreti per quanto riguarda quello, anche perché le formule, insomma, sono di dominio pubblico, non è assolutamente, diciamo, non mi sono inventato nulla, semplicemente al massimo, ecco, sono stato accorto al repaint di questa cosa. Ringrazio sempre il mio amico Claudio Sesto, che mi ha aiutato comunque sempre a gestire meglio i codici, quindi la parte informatica, che io non sono un ingegnere, non mi occupo di informatica, ma sono un mero appassionato, e da mero appassionato mi comporto, quindi non riesco a produrre materiale di alta qualità. Tramite il mio amico Claudio Sesto, sicuramente siamo riusciti a dare anche questo tipo di qualità. Quindi sono degli strumenti che non fanno ripaint del prezzo, quindi come li vedete rimangono, indifferentemente dalle candele successive, poi è ovvio che man mano che si aprono le candele, si chiudono, l'indicatore seguirà il prezzo. Attenzione, l'indicatore che segue il prezzo, non il prezzo che segue l'indicatore. Questo è un primo mantra che bisogna stabilizzarsi bene nel cervello, che gli indicatori nascono dal prezzo, e non è che il prezzo che fa l'indicatore, che è diverso, insomma, come concetto. È sottile, ma è differente. Per chi vorrà, mi può mandare tranquillamente una mail, che dopo mostreremo tutti i contatti a fine webinar, quindi non li mostriamo adesso, perché così rimane... Diciamo a fine webinar come avere questi due indicatori, quindi... Esatto, gli indicatori dopo vi spiego come averli, gratuitamente a codice aperto, ovviamente la condizione sarà quella di aprire un conto con il nostro broker Tickmill, vi metto il link sulla chat, Giuseppe dimmi sempre se compare, insomma, se lo la vedono tutti. Ok, questo è il link per aprire, e ovviamente ci saranno degli sconti commissionali, per la quale potete avere, quindi, oltre agli indicatori, anche lo sconto commissionale del 5% sulle operatività, e quindi, ecco, niente, ora partiamo appunto con il broker, cioè con il webinar, scusatemi, e con, diciamo, l'operatività quella di oggi. Come dicevo, prima della registrazione, abbiamo un primo webinar, diciamo, più teorico, nel senso che comunque spieghiamo la teoria della tecnica, e dopodiché giovedì andiamo direttamente alla pratica. Ovviamente non c'è solo questa tecnica, non c'è un solo mercato, ma ci sono più mercati, ci sono più tecniche, ne spiego due io e una Giuseppe, se ci sarà il tempo, il modo, sull'euro. Per me non so se riusciamo a spiegarla, perché non so se avrò tempo di farlo, nel senso che comunque spazio, ovviamente, alle tue tecniche, se poi riusciamo a spiegare anche quella, magari, sull'euro-dollaro, bene, però principalmente diamo il focus sulle tue di tecniche, ci mancherebbe. Va bene, va bene, Giuseppe. Allora, partiamo subito con l'introduzione al mercato del Forex, ovviamente ne abbiamo parlato ampiamente, già nei precedenti webinar che abbiamo fatto insieme, sono già, questo, se correggimi se sbaglio, siamo addirittura al settimo incontro, che praticamente... Io ho perso il conto, sì. Ormai abbiamo perso completamente il conto, ormai qui siamo di casa, e niente, quindi parliamo appunto velocemente del mercato Forex, per chi non lo conoscesse, il mercato comunque è Forex Exchange, Forex sta per Forex, quindi cambi valutari, quindi tradotto, in poche parole, Forex, Forex Exchange. Cambi valutari, che vengono fondamentalmente quotati sulle borse principali, e sono scambiati sul mercato ufficiale dei futures. Ovviamente sono nel mercato di Chicago, nel CME, e lì trovate, diciamo, i prezzi ufficiali. I broker, poi, ci sono tantissimi broker che comunque replicano esattamente l'andamento del prezzo del futures, e in questo caso è il CFD, che è altrettanto uno strumento derivato, che va sul derivato del, diciamo, del cambio principale, scambiato a Chicago, e ovviamente, il nostro broker, quello che si, sicuramente, tra i principali, perché avere uno spread pari a zero, non significa soltanto avere un basso profilo commissionale, ma anche l'identità al contratto futures scambiato, perché, come sapete, il contratto futures non ha la differenza tra domanda e offerta, quindi lo spread è ridotto al minimo termine, addirittura spesso è assente. Cioè, se c'è spread è perché non ci sono scambi su poi futures, ma, ovviamente, parlando di cambi valutari, sono cambi super liquidi, quindi troverete quasi sempre una controparte a qualsiasi tick del prezzo, o pips, se vogliamo essere più tecnici, e quindi fondamentalmente sono molto liquidi, molto scambiati, quindi non abbiamo problemi di liquidità, e quindi, avendo un broker che ha spread zero, praticamente sta emulando completamente quello che è il mercato principale, quindi, e già sfatiamo il primo mito, ah, vabbè, ma è un mercato surrogato, derivato, nel derivato del derivato, assolutamente no, è lo stesso identico prezzo, quindi non ci sono giochi in mani forti, e addirittura, la possibilità di avere un non-day-in-desk del broker, vuol dire che ci passa semplicemente gli ordini al mercato verso il liquidity provider, quindi abbiamo massima trasparenza, e massima sicurezza nei nostri scambi, quindi, cari signori, se prendiamo uno stop, non è colpa del broker, non è colpa del mercato, non è colpa di nessuna mano forte, ma è semplicemente noi che ci siamo sbagliati. Le tecniche tutte prevedono delle perdite, tutti prevedono degli stop, quindi dobbiamo accettare psicologicamente questo, diciamo, questo aspetto del mercato, prima lo accettiamo, e prima riusciamo a guadagnarci, diciamo, anche il sapore della vittoria, altrimenti, se non accettiamo le perdite, la tecnica che fondamentalmente andiamo a vedere a fine webinar, vi mostro l'equity line, è un equity che prevede comunque dei casi, dei momenti forti di guadagno, dei momenti di perdita, ma sul lungo periodo è vincente. Quindi, ovviamente, diamo spazio anche ai programmatori, perché è una tecnica oggettiva, chi vuole, la può tradurre in linguaggio codice da questo webinar, e inserire gli adeguati filtri che pretende, che giustamente, che ritiene opportuno, al fine magari di ottimizzarla un pochettino. Io sono un po' per gli algoritmi nudi e crudi, ovvero, algoritmi semplici, molto oggettivi, molto pratici. Quindi, tornando al discorso del Forex, fondamentalmente, parliamo di cambi valutari, cambi ufficiali, e mi concentro sui cambi fondamentalmente più volatili e più direzionali. Se vi ricordate bene, nelle precedenti sedute abbiamo parlato di come si studiano fondamentalmente i cambi, quindi bisogna capire se quel tipo di mercato è di natura trans-following o natura di mid-reversion, ovvero, cambi che sono favorevoli al breakout, quindi trans-following, o cambi che, comunque, nei casi, sono favorevoli al mid-reverting, quindi al break-in, ovvero, l'esatto opposto, appunto, del breakout. Per chi vuole approfondire questi concetti, li abbiamo spiegati molto bene e abbastanza chiaramente nell'ultimo webinar, quindi vi consiglio di andare sul canale YouTube del broker che ha lo stesso canale dove ho preso prima il link per quanto riguarda la fiscalità, scrivete Trading Talent Show Coaching e troverete i precedenti webinar, tanto durano circa tra la mezz'ora e 40 minuti e quindi sono anche piuttosto piacevoli da ascoltare. Parliamo appunto dei cambi, con il cambio principale che andremo a studiare è sterlina yen, ma vi ho aggiunto anche il cambio sterlina dollaro, tradotto anche in termini più comuni cable, e l'euro dollaro. Perché vi ho messo questi cambi? Perché tutti e tre hanno delle caratteristiche in comune, sia sterlina dollaro che euro dollaro hanno un, sono dei cambi promiscui che hanno sia la fase mid reversion che la fase trends following. Attualmente stanno attraversando una palese fase di trends following, perché stanno sviluppando un trend di breve periodo piuttosto definito a rialzo a discapito ovviamente del lunghissimo periodo che siamo sempre bloccati all'interno di un trading range che va da 1,04 a 1,45. Ovviamente sono circa 40 figure forex, sono tante che sul lungo periodo magari possono sembrare non tantissime, ma sul breve periodo invece sviluppano un trend ben definito che è la parte a rialzo. Ricordo che diversi anni fa l'euro dollaro invece stava sviluppando un forte trend a ribasso. Stiamo recuperando fondamentalmente tutta quella bella discesa che è stata protagonista negli anni diciamo dal 2002 al 2008 in generale. Quindi parliamo principalmente del cambio sterlina yen, ma ovviamente la stessa identica tecnica con gli stessi parametri all'incirca. Ovviamente variando qualcosa questo lo lascio a voi perché non mi piace dare la pappa pronta ma voglio che comunque stimolarvi allo studio, alla ricerca che fondamentalmente è quello che ha sempre fatto l'amico e collega che ti salutiamo che è Sergio Magala che vi dice sempre studiate mercati, ricercate nelle serie storiche quello che possono essere la natura dello strumento o comunque dei casi delle caratteristiche che possano sicuramente caratterizzare lo strumento e farvi trovare appunto qualche vantaggio statistico il famoso age. Quindi torno a ripetere la stessa tecnica che vi spiegherò tra oggi e giovedì è applicabile su sterlina dollaro e su euro dollaro perché sono cambi che attualmente si prestano al transfollow quindi ovviamente facendo dei backtest per chi già la vuole programmare e tutto quanto può farli tranquillamente vi consiglio di farli nei momenti di transfollowing quindi a partire dal 2012 ad oggi quindi circa sei anni di storico cinque anni e mezzo perché il 2018 ancora non è terminato è ovvio che se lo vedete nella fase mil reverting sull'euro dollaro andate un po' contro un muro in generale ecco perché va filtrato sempre il diciamo il lungo periodo col periodo diciamo intermedio su sterlina yen invece è un po' più stabile come tecnica per il semplice fatto che la fase transfollowing almeno nell'intraday e nel grafico daily è piuttosto protagonista ovviamente sterlina yen è quella che in linea generale chiamiamo il dax del forex che vuol dire il dax sappiamo che è un indice che è molto direzionale ha sviluppo diciamo degli allunghi piuttosto interessanti dei trend ben decisi ovviamente ci sono delle fasi di respiro ci sono delle fasi in cui il dax lateralizza un pochettino ma principalmente è un mercato direzionale sterlina yen è alla stregua ha comunque delle fasi di mid reversion che sono però in percentualmente minori rispetto alla fase trans following quindi detto questo insomma vi ho fatto già il 70% dell'analisi dello strumento quindi sappiamo bene che in ottica di portafoglio su sterlina yen possiamo introdurre una tecnica di mid reversion molto semplice ma è semplicemente per attutire un pochettino quello che è la fase di drawdown mentre per quanto riguarda il discorso dell'ottimizzazione del guadagno è sicuramente mettere dentro sistemi trans following che sicuramente vi fanno accelerare il conto e non di poco in generale quindi detto questo quindi sappiamo appunto che i cambi valutari sono la correlazione naturale naturale per il semplice fatto che sono già messi in correlazione da qualcuno tra la sterlina e lo yen se lo sterlina yen sale non vuol dire per forza che la sterlina è forte potrebbe anche essere che lo yen sia debole e viceversa se sterlina yen scende non per forza lo yen è forte ma potrebbe essersi indebolita la sterlina questo a livello macroeconomico e vi consiglio di andarvelo a studiare giorno per giorno seguendo i dati che fondamentalmente escono tutti i santi giorni o comunque a cadenze comunque già stabilite quindi vi consiglio di farvi un bel calendario economico perché qual è il vantaggio del trader discrezionale il vantaggio del trader discrezionale non è quello di tirare la trendline come abbiamo bocciato nelle precedenti diciamo lezioni ma il vantaggio del trader discrezionale è quello di filtrare ulteriormente quelle che sono le impostazioni dell'algoritmo che attenzione non significa derogare l'algoritmo ma semplicemente ottimizzarlo se ad esempio si vede che è uscito un dato non troppo favorevole e l'algoritmo ti dice di andare long con tutta probabilità a te quell'operazione da discrezionale non andrai mai a farla e spesso e volentieri ti permetterà di ottimizzare un pochettino quelli che sono i parametri perché se l'algoritmo si sarebbe schiantato su quel dato e sappiamo che i dati per il fatto che sono un po' imprevisti quindi non sono stimabili prima il mercato li sconta prima ma non li può stimare prima ad esempio i non farm payrolls di giugno nessuno può saperlo come usciranno si saprà soltanto il primo venerdì di giugno ma non non c'è nessun algoritmo che può prevedere questo si può fare una stima statistica in base a dei parametri si possono impostare si possono lavorare un pochettino su queste news e su questi dati ma con precisione assoluta non potremo mai e mai sapere come usciranno e se quei dati che sono piuttosto imprevedibili possono sicuramente inficiare quelle che sono le statistiche dell'algoritmo quindi se noi in base alla nostra esperienza riusciamo a interagire con l'algoritmo base e a introdurre qualche ottimizzazione salvandoci qualche operazione è sicuramente un'ottima cosa perché trasformare una potenziale perdita in un mancato guadagno o quantomeno in un operazione flat ci porta a un guadagno implicito e ci dà sollievo sia nei momenti successivi di drawdown ma anche soprattutto sul lungo periodo a sopportare meglio quelle che sono le perdite quindi questa è l'impostazione generica e quindi torniamo appunto sul nostro cambio stellina yen è una correlazione tra queste due monete vi consiglio di andare a studiarvele bene quali sono i dati che possono inficiare quindi comunque in dei casi vedere come si comportano sotto quei dati sotto quindi delle botte di volatilità perché comunque in dei casi possono sovra-ottimizzare l'algoritmo oppure frenarlo quindi questo bisogna un attimino osservarlo io vi dico sempre che durante un son però se io li trado sempre l'algoritmo lo lascia acceso perché proprio perché lì si sviluppa forte di volatilità se ho i filtri giusti riesco comunque a seguire il trend altrimenti ovviamente ci sta che ci becchiamo uno stop in generale quindi Giuseppe se non ci sono delle domande particolari che leggi la chat io passerei proprio alla fase diciamo di struttura dell'algoritmo tu che dici sì perché comunque le domande non erano più che altro sulla struttura prima del forex perché qualcuno dice ok ci sono le macchinette però va bene comunque andiamo avanti così magari facciamo un webinar molto conciso e riusciamo già a spiegare le regole operative allora fondamentalmente parliamo un pochettino insomma apriamo e chiudiamo la cadente delle macchinette sì sul forex le macchinette ci sono e se comunque dei casi automatizzate questo strumento e create il vostro expert advisor è una macchinetta anche quella è ovvio che comunque dei casi macchinetta io dico sempre non cambia non vuol dire niente chi mette l'ordine se lo mette un computer se lo mette è una persona fisica se quell'ordine è stato messo una banca centrale non è macchinetta che tenga in generale perché le macchinette limitano un pochettino quelle che è lo scalping in generale che hanno reso efficientissimi i mercati perché gli scalper andavano a lavorare fondamentalmente su diciamo delle inefficienze di mercato che si venivano a creare nel brevissimo periodo ma ad oggi con i mercati telematici con i tanti volumi che entrano nei mercati non c'è macchinetta che tenga non c'è scalper che tenga per la quale ci sia profitto da quel punto di vista quindi sono più leggende metropolitane e altri il forex non è strumento da macchinette è strumento da istituzionali che è diverso che poi l'istituzionale entra con un algoritmo o entra a mano con i suoi analisti questo non vuol dire assolutamente nulla perché torno a ripetere questo algoritmo lo potete fare a mano voi come lo potete fare in maniera del tutto automatica e diventa una macchinetta tutto sta nella liquidità che ci viene messa dentro una banca centrale entra con svariati milioni di euro se non addirittura miliardi quindi in linea generale può ripetere anche da che tipo di latenza avete rispetto agli istituzionali se comunque volete fare scalping vero e proprio dai frequency training ma assolutamente sul forex non c'ha senso assolutamente cioè prima magari potremmo averlo su qualche arbitraggio ma ad oggi è tutto talmente efficiente talmente in tempo reale che se c'è qualche latenza si tratta di uno due secondi cioè dovete avere il server accanto c'è a Chicago c'è accanto alla borsa e tutto quanto quel genere lì di training forse ad oggi con la nascita delle criptovalute forse ritrovate lì quel tipo di inefficienze ma non più sul forex ormai è talmente efficiente come il mercato che vi dicevo ho provato a trovare dei bias addirittura sul forex non reggono sul lungo periodo nel momento in cui vengono scoperti tempo un anno due vengono riassorbiti cioè uno ve lo posso dire tranquillamente tanto ormai non funziona più è quello delle 8 e 30 sull'euro dollaro tutte le mattine alle 8 e 30 l'euro dollaro sviluppa volatilità ad oggi la volatilità è sviluppata al 50% long al 50% short su una serie storica di almeno 15 anni quindi parliamo almeno dal 2002 in poi ma anche se non ha senso guardarlo dal 2002 ma ha senso guardarlo dal 2008 ovvero da quando le borse sono diventate telematiche e vi dico che da queste date quindi o dal 2002 o dal 2008 avrete fondamentalmente un profit factor di 1,01 quindi un vantaggio praticamente nullo cioè eroso direttamente dalle commissioni quindi non è che trovate un vantaggio su quell'orario lì però se lo guardate su un istante di tempo breve di un paio d'anni ovviamente il profit factor aumenta a dismisura perché degli anni dal 2008 in poi è a favore dello short a partire diciamo dal 2013 2014 a favore del long però dura un paio d'anni poi dopo di che viene riassorbita questo tipo di inefficienza quindi tempo che l'avete scoperta probabilmente già è finita quindi in linea generale non andate a cercare questo tipo di strutture sul forex perché non funzionano se le trovate le tenete pre per voi ma tanto dureranno poco quindi parliamo invece di quelle che possono essere delle regole operative logiche sul forex ovvero di cercare innanzitutto di scendere scusate queste le applicherai sulla strategia giusto? queste sono regole su tutte le strategie noi abbiamo detto che faremo un paio di strategie una sul sul cambio sterlina yen e il secondo sul VTI la struttura è questa quindi selvatevi bene questa slide io questa l'avevo già regalata tempo fa mi ricordo a Natale se non erro non l'avevo mai proposta in un webinar quindi è la prima volta che la propongo quindi do questa esclusiva anche a Tickmill per questa cosa e questa è a mio avviso la base per creare strategie vincenti poi è ovvio che bisogna lavorare su ogni punto parliamo appunto di regole operative l'entrata quindi l'entry l'entry la possiamo stabilire in base al pattern con un filtro di indicatore il concetto di pattern l'abbiamo visto nei precedenti webinar che torno a invitarvi a osservare se non li avete visti quindi un pattern può essere tranquillamente un pattern di analisi tecnica quindi quelli un po' più conosciuti oppure dei pattern proprietari cioè pattern vostri che comunque nei casi avete un pochettino individuato per la quale magari avete notato che spesso e volentieri succede un determinato si crea un determinato accoppiamento di candele o comunque dei casi avete notato un atteggiamento tipico quello sicuramente è un pattern poi dopodiché bisogna aggiungere quello che è il filtro dell'indicatore cioè se dobbiamo noi dobbiamo decidere in base al pattern noi diciamo il pattern ti dice ok si è creato il pattern quindi ok si entra ma dove si entra long o short questo ce lo dice l'indicatore in base a come siamo sul messi sul mercato decidiamo di entrare long o short ovviamente questo va contestualizzato e va contestualizzato come in un orario ben definito cioè entriamo sempre a tutti gli orari il mercato non regala mai pasti gratis come si usa dire che vuol dire che il mercato non ti dà sempre quella diciamo quel pattern che è applicato sempre per n volte all'infinito che è sempre vincente tu lo devi filtrare con dell'orario perché cosa vuol dire filtrarlo con l'orario significa filtrarlo in base all'orario in cui la volatilità si sviluppa in maniera più dominante cioè ovvero dove ci sono occasioni dal momento che stiamo sviluppando una tecnica di divinatura trends following che cosa vuol dire questo vuol dire semplicemente che per cercare una tecnica di natura trends following dobbiamo cercare dei punti in cui si sviluppa trend il trend si sviluppa in base alla volatilità e quindi dobbiamo andare a cercare esplosioni volatili ovviamente ultima cosa una volta che abbiamo deciso diciamo il pattern di entrata una volta che abbiamo deciso come entrare quindi long o short il momento in cui entrare dobbiamo decidere quella che è la size quindi fondamentalmente dobbiamo rapportarci al nostro conto quindi farci i famosi conti della serva e il money management l'abbiamo vista nel precedente webinar quindi vi torno sempre a dire andate sempre a vedere i vecchi i vecchi webinar del trading tali show coaching per la quale abbiamo parlato di money management quindi in base al nostro conto in base a quello che ci possiamo permettere in base al rischio che abbiamo deciso di sostenere andiamo a fare la nostra operazione bene abbiamo deciso quindi questi sono i quattro punti fondamentali di ingresso e vi faccio un esempio che ne so prendiamo un pattern ad esempio che ne so tre candele consecutive che breccano massimi dai vediamolo col grafico così è più immediato ma sì ma io sto dicendo fondamentalmente quello che potrebbe essere un pattern quindi che ne so prendiamo tre candele consecutive verdi che vanno a breccare esatto che ognuna brecca al massimo della candela precedente quindi ad esempio la abbiamo eccola lì prendi quella lì la prima verde abbiamo la seconda verde e la terza verde questo è il nostro pattern noi diciamo che se abbiamo tre candele verdi consecutive noi alla quarta se brecca al massimo entriamo long questo è il nostro pattern il secondo filtro che possiamo andare a mettere ad esempio è un indicatore e diciamo che se ci sono tre candele verdi e ad esempio il super trend è verde anche lui quindi filtra una posizione di trend long noi al breakout del massimo entriamo long e questo è diciamo il secondo il secondo aspetto diciamo il secondo il secondo punto che abbiamo deciso entriamo con l'orario bene cominciamo a parlare del nostro eh eh sterlina yen sterlina yen che orario vogliamo fare allora non è che siamo come al supermercato che decidiamo quanto al chilo l'orario va filtrato bene cioè dobbiamo dirlo in base a quella che potrebbe essere la volatilità e andiamo allora per collegarci a questo tipo di discorso dov'è che andiamo dobbiamo andarlo a studiare l'orario lo dobbiamo studiare in base all'orario di contrattazione degli indici di quel di quello strumento di quello strumento lì perché che cosa caratterizza che cosa muove la sterlina e che cosa muove il dollaro diciamo che sul dollaro influiscono tante cose che potrebbe essere sia l'oro sia il petrolio sicuramente qualche materia prima perché se ovviamente l'america è il maggiore esportatore di materie prime sicuramente materie prime fondanti della nostra economia sicuramente hanno una forte influenza in generale però sono diciamo un po' più delle conseguenze quello che sicuramente caratterizzano il chiamiamolo diciamo rapporto di cambio è dato fondamentalmente anche da quelle che sono le gli indicatori macroeconomici di quel paese quindi la sterlina che cosa è che diciamo raffigura gli indicatori macroeconomici gli indicatori macroeconomici che vanno diciamo a inficiare sulla sterlina sono riassunti in quello che è l'indice del Fuzzi di Londra il Fuzzi 100 quindi che cosa dobbiamo andare a prendere dobbiamo andarci a guardare il Fuzzi 100 e dire quando è che il Fuzzi 100 sviluppa volatilità ve lo dico da esperto di indici in generale io non sono esperto di Forex il Forex meno male lo conosco molto bene perché studio molto quella che è la volatilità il nostro broker Tickmulli ce l'ha che è UK 100 UK 100 eccolo lì e noi notiamo che le candele più estese se lo mettiamo anche in H1 ad esempio lo osserviamo che sono sempre le prime perché in apertura di indice si sviluppa sempre quella che è la volatilità e quindi se nell'indice si sviluppa sempre volatilità noi non ci interessa che se il prezzo va su o va giù o se il prezzo comunque dei casi si comprime o si espande a noi ci interessa che la distanza tra massimo e minimo sulle prime candele sia piuttosto pronunciata e noi lo osserviamo sempre sulle prime e l'apertura ufficiale del Fuzzi 100 quando è? è alle 10 orario italiano ovviamente la piattaforma nostra di Tickmill va con l'orario inglese e quindi dobbiamo andare un'ora indietro cioè quando la piattaforma di Tickmill ci dice che sono le 11 in realtà sono le 10 italiane ovviamente correggimi se sbaglio Giuseppe e per quindi in base a questo tipo di orario qui dobbiamo rapportarci vi dico che l'orario clou del Fuzzi 100 è dalle 10 alle 11 del mattino possiamo tenere un discorso di ampiezza fondamentalmente per quanto riguarda diciamo il discorso tra le 11 e mezzogiorno proprio per dire le prime due ore comunque sono molto molto importanti ancora più importanti sono le ore del pomeriggio perché andiamo in America quando è che l'America apre ufficialmente le sue contrattazioni delle materie prime e soprattutto degli indici alle 15 e 30 orario italiano c'è una pre contrattazione alle 14 e 30 e quindi diciamo che dobbiamo prestare attenzione a partire diciamo dalle 14 fino ovviamente a massimo alle 17 18 per quanto riguarda le diciamo le operazioni da aprire insomma per tenere in considerazione quella che è l'entry quindi l'entry la decidiamo quindi a partire dalle 10 a non oltre le 17 quindi 5 ore per decidere di entrare o meno e questo è l'orario ovviamente il money management ve lo anticipo già rispetto a quella che sarà il prossimo incontro e utilizzeremo un money management fisso con un rischio percentuale io l'ho deciso all'1% ovviamente è un rischio all'1% piuttosto alto vi consiglio sicuramente di tenervi bassi magari con uno 0,50% quindi che cosa vuol dire che per ogni operazione non rischiamo più dello 0,50% del conto quindi che vuol dire che su 1000 euro di conto che possiamo avere noi non rischiamo più di 5 euro per ogni operazione quindi ovviamente andremo a utilizzare l'ottaggio relativo quindi che cosa vuol dire l'ottaggio relativo che se ogni pips vale ad esempio 10 dollari per ogni lotto quindi se dobbiamo assumerci un'operazione di 30 pips ad esempio non andiamo a rischiare quei 30 pips devono valere 5 euro non di più ovviamente possono valere anche meno se comunque dei casi metti caso che abbiamo che ne so un'operazione che ha soltanto 10 pips di stop all'otto intero sarebbero 100 dollari di stop noi ne possiamo rischiare massimo 5 di dollari ovviamente di stop 5 euro insomma dipende come avete il conto se in dollari o in euro quindi quei 5 euro saranno il nostro rischio se noi vogliamo rischiarne 4 o 3 meglio ancora insomma però non dobbiamo andare a rischiarne di più perché altrimenti scusa Marco lo 0,50 dell'equity del conto del conto abbiamo 1000 euro sul conto rischiamo massimo per ogni operazione 5 euro se invece abbiamo 2000 euro sul conto ne rischiamo massimo 10 abbiamo 100.000 euro sul conto rischiamo massimo 5000 euro se non sbaglio quindi è il 5% scusatemi 500 euro ok quindi entri dalle 10 alle 17 esatto con un money management 0,50% l'indicatore ce l'abbiamo il super trend esatto il pattern ve lo svelo la prossima volta perché comunque dei casi vi ho fatto un esempio di quello che potrebbe essere un pattern veniamo alle regole di uscita stop loss e target lo stop loss potrebbe essere dato dall'ora quindi che vuol dire essere dato dall'orario semplicemente diciamo che ne so alle 20 della sera come sta sta al mercato chiudiamo tutto non me ne frega niente sta su sta giù sta perdendo 20 pips 30 pips 100 pips se ne sta guadagnando 200.000 non fa niente alle 20 dove sta sta si chiude altrimenti si può mettere uno stop loss e un target che si vengono definiti quantitativi ovvero vengono misurati e possono essere misurati secondo un parametro ovviamente non tirato a caso ma magari ce lo può dare un indicatore io dico sempre che gli indicatori quantitativi che ti possono dare un target sono un paio che può essere o la dediazione standard o la TR perché ti danno un valore preciso medio statistico per la quale si diciamo sviluppano le candele la dediazione standard è un po' più attaccata al prezzo quindi più è basso il valore della dediazione standard e meno ovviamente è il valore quindi è più reale fondamentalmente la TR invece calcola la media è più staccato dal prezzo una media aritmetica semplice quindi più diciamo la TR ha bisogno diciamo di valori corti piccoli mentre la dediazione standard ha bisogno di valori un po' più ampi quindi filtro dell'indicatore che ti può dare un parametro quantitativo oppure appunto un filtro d'orario oppure addirittura usarli tutti e due perché no noi decidiamo uno stop loss e un target se questo stop loss o questo target sono troppo ottimistici faccio l'esempio e lavorare ad esempio in H1 con stop loss di 50 pips o target di 50 pips è un po' una follia perché in automatico avete deciso di mandare overnight metto l'operazione quindi andando a pagare gli swap andando l'incontro a diversi fattori che possono essere positivi ma allo stesso tempo negativi i famosi cigni neri cioè la notte in cui hanno deciso che il franco svizzero doveva essere lasciato la parità io non ho cioè non ho non ho avuto parole quel giorno e ho detto ho detto speriamo che qua dentro qualcuno non ha lasciato le operazioni aperte overnight perché il giorno dopo ti svegliavi fondamentalmente con freddo perché si era mosso tutto insomma in generale in una direzione completamente inaspettata quindi al fine di evitare questo è consigliabile sempre per chi fa un day trading o quantomeno un trading di breve termine non mandare overnight l'operazione o al massimo di tenerla aperta fino al giorno dopo come consiglia sempre il nostro amatissimo maestro Larry Williams che ovviamente diceva che il trading di breve termine deve essere di breve termine cioè ovvero al massimo un paio di giorni non di più perché sennò pagate gli swap pagate gli slippage pagate fondamentalmente quelli che sono i cigni neri eccetera eccetera quindi andate tutto incontro ad una serie di costi impliciti che vi potete tranquillamente risparmiare chiudendo l'operazione il giorno stesso poi è ovvio che se invece fate un trading di più ampio respiro che andate a lavorare su time frame ampi è normale che va mandato overnight l'operazione ma non è il forex quello dal mercato giusto per mandare overnight le operazioni perché sul forex fondamentalmente sono quasi tutti i cambi di min reversion quindi i trend durano poco e quegli strumenti come ad esempio sterlina yen che comunque dei casi sono di natura trans following anche questa natura trans following più allunghi il time frame quindi più è ampio e meno si nota mentre più è basso e più è sfruttabile questo fattore questi sono dei piccoli segreti insomma che vi comunico già da adesso quindi direi che abbiamo già messo tanta carne al fuoco la prossima volta che sarà tra due giorni quindi giovedì allo stesso orario 18 e 45 parleremo di quello che sarà precisamente il pattern parleremo del filtro degli indicatori quindi super trend half trend come andranno utilizzati come vanno utilizzati gli orari di entrata e di uscita come vanno studiati gli stop loss e i target diciamo che sia in ottica di orario che in ottica quantitativa quindi già abbiamo messo parecchia carne al fuoco per bene o male giustificarvi comunque la bonarietà di questo diciamo strumento di questo algoritmo di questo modus operandi Giuseppe se puoi mostra anche l'equity line dove fondamentalmente questo è quello che ho ottenuto questo è l'equity line del mio conto reale vedete che comunque dei casi non sono tantissime operazioni sono diciamo un conto che è partito insomma con con basso insomma quindi fondamentalmente non non altissimo ha subito un iniziale drawdown quindi un po' di perdita insomma che comunque le case è stata sul 20% quindi comunque piuttosto ai limiti di quello che potrebbe essere un po' il limite di sopportabilità e poi piano piano è salita fino insomma a più che raddoppiarsi insomma è andato praticamente questo parliamo di una performance di quasi il 300% fatta in diversi anni e con circa 500 trade sono diversi anni questi e 500 trade quindi che cosa vuol dire che un anno è composto da 250 giorni lavorativi a livello borsistico quindi che cosa vuol dire che se ho fatto 500 trade e questi sono ad esempio 4 anni di trading vi dico che più o meno sono circa 5 anni e mezzo che è più o meno da quando ho iniziato a far trading sul serio cioè a smettere di dare dietro alle stupidaggini metti 100 euro e guadagna o la signora che era casalinga ha fatto trading e è diventata ricca quando ho smesso di credere alle come si dice agli asini che vorano e mi sono messo a studiare seriamente questa è stata la mia performance per quanto riguarda questo genere di tecniche perché poi ovviamente ho altri conti dove girano altri algoritmi dove ci sono altre tecniche e le equity line sono differenti questa ben o male è stata quella di 5 anni e mezzo in 5 anni e mezzo ho fatto circa 500 operazioni quindi questo vuol dire che ho operato il 25% del tempo tra il 20 e il 25% del tempo quindi vuol dire che in 250 giorni operativi sono stati circa 50 tra i 50 e gli 80 giorni quindi vuol dire una media di 1 massimo 2 giorni a settimana operativi quindi come vi dicevo il mercato non dà passi gratis tutti i giorni quindi può succedere il giorno che non entra l'operazione quindi non è scalping non è trading convulsivo o ossessivo ma è un trading ragionato un trading chiamiamola anche di osservazione e di assalto vi mostro quelli che sono i contatti per quanto riguarda il discorso la prima è la mia mail di ott.marcod.gmail.com è la mia mail lavorativa dove mi potete scrivere e vi invio diciamo gli indicatori che fondamentalmente vi dicevo ho programmato io sono a codice aperto e non fanno ripaint quindi niente di speciale insomma ma già che il fatto che non facciano ripaint a mio avviso è fondante perché qui trovate tante chimerie tanti indicatori che sembrano magici poi quando li vai a studiare bene c'è sempre la fregatura lì c'è il link per aprire che vi rimando in chat questi indicatori ve li regalo solo se aprite il conto con Tickmill in generale vi consiglio di aprirlo anche perché avete tanti vantaggi oltre agli indicatori avete anche il discorso dello sconto commissionale e il fatto è un occhio di riguardo sicuramente per la dichiarazione dei redditi che come diceva Giuseppe all'inizio siamo gli sgoccioli e non per vantarmi ma sono uno dei pochi che sa gestire questo tipo di redditi mi contattano tante parti d'Italia un motivo insomma ci sta non è un vanto per me a livello diciamo professionale proprio per il fatto che comunque nei casi sono a Roma e ti contattano dalla Valle d'Aosta o dalla Sicilia o addirittura dalla tanto Blasomata a Lombardia mi domando sempre ma può essere che non c'è un collega che sia specializzato in questo no è una nicchia il trading quindi non è per denigrare i colleghi ma è una nicchia di cui pochi conoscono quelli che sono gli aspetti fiscali quindi sicuramente avete anche un occhio di riguardo per questo aspetto quindi vi ovviamente lascio anche il mio cellulare laurativo che così chi vuole magari si trova un po' più comodo con Telegram o con Whatsapp mi può mandare anche un messaggino lì se magari la mail è troppo formale c'è anche Skype però lo uso veramente poco quindi vi consiglio più una mail o un messaggio Whatsapp mi scrivete il vostro contatto e vi giro gli indicatori in modo tale che già da giovedì potete andare operativi e vi lascio sicuramente almeno un paio di settimane di tempo per fare trading reale e lo faremo anche io e Giuseppe faremo qualche operazione la possiamo allora tu giovedì se spieghi la tecnica io poi farò in settimana appena posso qualche trade in modo tale che come avevamo detto dedichiamo questo conto qui che vedete che è reale collegato a MyFXbook in modo tale che poi nei prossimi appuntamenti che saranno quelli di giugno non so ancora le date ma credo verso la fine di giugno andremo un po' a vedere che cosa un po' le statistiche in modo tale da capire se c'è stato qualche errore da parte mio o di Marco vediamo che cosa ma magari qualche errore lo facciamo pure apposta proprio per farvi vedere però quello che appunto poi vi consiglio è anche voi stessi di collegarvi il conto a MyFXbook non per vedere chi è il più bravo assolutamente no ma perché appunto riusciamo ad avere delle statistiche oggettive su cui puoi ragionare quindi è una cosa che consiglio sempre di fare in modo tale che questo mi fa accrescere anche come trader perché vi dà una serie di statistiche molto importanti che discrezionalmente così non è facile ottenere ad esempio penso al rischio rovina che non tutti conoscono ma che credo che sia uno dei fattori più importanti per un conto training soprattutto per la gestione ok Marco quindi l'appuntamento è a giovedì tra due giorni io leggo qualche vedo un po' di domande tu Marco hai qualche minuto per rispondere alle domande oppure devi andare no 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 5-10 minuti dedichiamo le domande e poi chiudiamo il webinar assolutamente dimmi pure allora una domanda interessante è quella di Paolo che dice per sapere gli orari favorevoli per l'ingresso non sarebbe più facile fare un'ottimizzazione mirata assolutamente sì potete come vi dicevo prima prendere la serie storica e studiare sul prezzo stesso quali sono gli orari migliori ovviamente però vi dicevo sul forex è difficile che riuscite a trovare Larry Williams per chi ha letto il suo libro vi diceva sempre per capire bene uno strumento devi capire innanzitutto che cosa è correlato lui quando ha creato l'OPS non ha detto che l'OPS funziona sull'S&P 500 perché è l'OPS l'OPS funziona sull'S&P 500 perché comunque è correlato col gold e col treasury bond lo stesso discorso vale per sterlina yen quegli orari non è perché funzionano perché lo dico io o perché lo dice la serie storica ma semplicemente se vedete gli strumenti correlati l'S&P 500 UK 100 o comunque dei casi magari anche il grafico dell'oro vedete che comunque dei casi quegli orari sono particolari sono molto caratteristici proprio perché reagiscono in quell'orario lì ovviamente tutto l'insieme è correlato e quindi si va tutti su un'unica direzione non succederà mai che c'è compressione di qualità sull'euro dollaro e il DAX fa 2000 punti molto probabilmente il DAX non si muove se comunque dei casi l'euro dollaro non si muove cioè è tutto correlato il discorso insomma se l'euro impazzisce che va a rialzo tutto insieme state sicuri che tutti gli indici italiani gli indici europei scusatemi autostox DAX ibex eccetera e compagnia bella vanno tutti quanti a rialzo perché comunque dei casi o quantomeno se c'è una correlazione inversa vanno tutti a ribasso è normale questo ok poi va bene sulla registrazione si sarà disponibile un'altra domanda credo che questa sia relativa al discorso quando dicevi che non funzionava più il il pattern delle 8 e 30 sull'euro dollaro ovviamente queste sono opinioni di Marco non non è la la verità assoluta esatto Anna quindi comunque sono Marco ha delle statistiche come degli studi che ha fatto e quindi non non ha trovato il cosiddetto age e quindi la morning box chiede non vale più non so che cosa sia la morning box credo che sia comunque un breakout su una fascia oraria prestabilita non so Marco se la conosci penso di sì io questo termine l'ho sentita una volta da un trailer che tra l'altro nemmeno stimo quindi sinceramente non ho non ho intenzione né di farne i nomi e né nemmeno di ok quindi sull'orario su una fascia oraria si decide si inseriscono due ordini pendenti sulla parte alta e bassa appunto non non chi siamo noi per dire che non non vale più se hai degli studi che e comunque hai dei profitti che con questa tecnica continua ad utilizzarla comunque ha ragione sempre chi chi fa gain quello assolutamente esatto esatto quindi sinceramente non mi soffermerei su questi termini morning box eccetera eccetera che tra l'altro non so nemmeno se facciano riferimento a quello che magari posso pensare io ma sugli studi di altri trader non metto assolutamente bocca io non utilizzo diciamo questi tipi di tecniche insomma in linea generale se mi sviluppo io dei miei box orari sono dei miei box orari per la quale vi parlerò tranquillamente in maniera del tutto aperta e trasparente la prossima volta ok l'ultima domanda Marco sulla sull'uscita hai parlato di deviazione standard a tr quindi utilizzerai uno dei due la discrezione io vi ho spiegato il discorso non è che uno esclude l'altro la deviazione standard se voi la mettete a due periodi vi dice ben o male il valore preciso ma ovviamente se il mercato alla fine diciamo dell'uscita dell'orario di uscita sta realizzando vuol dire che la deviazione standard vi dice che dovete uscire entro 8 pips 10 pips cioè andare a lavorare con stop loss la deviazione standard significa praticamente essere perdenti perché comunque nei casi la deviazione standard misurata su un time frame breve vi dirà fondamentalmente quello che è la media istantanea del prezzo un'ATR invece è l'esatto opposto cioè per voi avere un valore decente comunque più diciamo correlato alla quella che è la volatilità del momento è più dare un valore ampio della deviazione standard a 50 periodi 100 periodi che possono sembrare tanti ma in realtà vi dà un valore che è simile a quello che vi darebbe un'ATR a 2-3 periodi quindi comunque sempre un valore piccolo dell'ATR ma siccome che è basato su calcoli diciamo matematico aritmetici assolutamente non non bisogna metterli ampi perché se no altrimenti vi dà dei valori assurdi in generale quindi valori piccoli dell'ATR corrispondono a valori grandi dell'aviazione standard valori piccoli dell'aviazione standard non sono da prendere in considerazione valori grandi dell'ATR anche qui per un trading di breve termine non ha senso perfetto va bene allora poi si certo andiamo nello specifico di questo questo giovedì chi si è iscritto a questo webinar è già automaticamente registrato quindi non è necessario registrarsi siete automaticamente iscritti va bene allora ci vediamo giovedì alle 18 e 45 grazie Marco e grazie a tutti per aver ascoltato e visto questo webinar vi auguro come sempre buon trading grazie a te Giuseppe e buonasera a tutti